Allora siamo qui oggi ad Acquiterme con Sara Spagnuolo che ci siamo incontrati perché lei ha dato un contributo alla mostra di Fontana e nella rassegna che tutti gli anni qui ad Acquiterme portano avanti questa rassegna artistica che va avanti credo ormai da diversi anni e Sara insieme al suo team ha dato un contributo per la parte multimediale di questa mostra. Allora ne approfittiamo un po' per scoprire chi è Sara Spagnuolo, cosa fa e quali sono i suoi obiettivi e come si muove all'interno del mondo dell'arte. La cosa che la caratterizza è l'ideazione, lei è la fondatrice di questa idea possiamo dire che è Art Temperature, di che cosa si tratta? Art Temperature è un progetto di ricerca basato sul tentativo di capire come l'arte può essere comunicata online e come il mondo digitale può amplificare il messaggio portato da l'arte stessa. È iniziato tutto come un progetto più legato alla comunicazione online, quindi esiste appunto questo magazine digitale dove parliamo di vari argomenti che riguardano il mondo dell'arte contemporanea, principalmente il tema portante è appunto l'arte e la tecnologia, quindi come anche gli artisti usano i social media e come i social media possono essere utilizzati per il mondo dell'arte. Quello che invece ci ha visto coinvolti qui ad Acquiterme è un progetto che va al di là dell'online ma riguarda sempre il mondo digitale, quindi come l'arte anche offline può beneficiare del digitale per raccontare qualcosa in più. Qui in particolare abbiamo pensato di dare un contributo legato al messaggio. Infatti questa mostra che è dedicata a Fontana è una mostra molto molto interessante perché ha più di 30 opere inedite e quindi insomma merita sicuramente di essere vista, però tanti che conoscono Fontana si ricorrono a Fontana l'artista dei tagli sulle tele. Ma perché Fontana faceva questi tagli nelle tele? Ecco, noi con questa installazione multimediale siamo andati a rispondere, a cercare di dare un contributo su questo punto di vista, il perché Fontana a un certo punto decise di fare questi tagli nelle tele. Queste installazioni multimediali possono dare un contributo quando o danno un messaggio in più relativo al significato dell'artista che l'artista mette nelle sue opere o di un'opera d'arte in particolare. Oppure hanno un senso quando coinvolgono le persone in un'interazione con l'opera d'arte oppure quando riescono a amplificare l'opera d'arte stessa dando ancora di più un senso di stupore nel vedere un'esperienza non solo estetica ma anche emotiva. Quindi in questo caso noi abbiamo risposto al primo elemento cioè cercare di spiegare un concetto che magari altrimenti è difficile comprendere. Questo è un lavoro sempre molto difficile quello di associare la tecnologia al modus diciamo espositivo tradizionale perché si rischia sempre poi di travaricare o che la tecnologia prenda il sopravvento rispetto a una normale fruizione dell'opera d'arte. Secondo te qual è il giusto equilibrio? Come si può fare a raggiungere il giusto equilibrio fra comunque la necessità di godersi l'opera diciamo in maniera tradizionale quindi così con la diciamo fra virgolette con la contemplazione e la necessità che oggi in realtà tutti sentiamo di avere quel qualcosa in più che ci aiuti a entrare ancora di più in empatia con l'opera? L'elemento multimediale bisogna veramente pensarlo in concerto con chi si occupa di curare la mostra in modo da essere comunque allineati su quelli che sono i principi e il fil rouge della mostra, le linee guida e poi secondo me va fatto quando veramente da un valore aggiunto ecco farlo per farlo non ha senso. Non deve essere fatto per forza perché oggi ci deve essere la stanza o l'installazione multimediale che poi molto spesso quindi risulta giusto apposta, non risulta integrata la mostra se è fatta in questo modo? No deve dire qualcosa in più e quel qualcosa in più può essere appunto sotto vari punti di vista come diciamo prima può essere semplicemente un elemento divertente che coinvolge le persone in maniera diversa o magari pensato per un pubblico specifico io penso comunque anche ai visitatori più piccoli, noi bambini magari tante volte multimediale per loro è un modo per trovare un elemento anche divertente all'interno della mostra oppure per lanciare un messaggio oppure per creare un'amplificazione prima parlavamo di vari esempi c'è stato recentemente questo questo uso del multimediale all'aeroporto di bruxelles che secondo me facendo qualcosa di piccolo comunque hanno coinvolto in questo caso le persone che erano all'interno dell'aeroporto in un'esperienza diversa perché da dei quadri di rubens hanno fatto hanno animato dei piccoli cupido che si muovevano fuori dal quadro svolazzando sui muri e scomparendo da una porta illuminata di luce divina ecco è una cosa piccola però che magari dà la possibilità di vedere un dipinto di rubens in maniera innovativa e magari a un visitatore disattento come quello che può essere all'interno di un aeroporto invece raccoglie l'attenzione e valorizza l'opera stessa che potrebbe passare invece magari inosservata dipende molto anche secondo me dalla sensibilità poi di chi fa questo lavoro perché molto spesso alcuni produttori di mosse si rivolgono a dei tecnici puri e allora sì il risultato dopo è abbastanza freddo se vuoi o estremamente tecnologico invece ci vuole anche un buon lavoro di come dire di incastro sia con la sensibilità del curatore ma ci deve essere una sensibilità artistica proprio anche da parte di chi poi va a sviluppare da parte del team che va a sviluppare questo genere di lavoro e quindi quando la mostra per esagerazione può diventare totalmente multimediale secondo te fino a che punto ci si può spingere ma allora a giugno adesso giugno 2018 è stato inaugurato il primo museo totalmente digitale a tokyo fatto da questo team che si chiama team lab che appunto sono pazzeschi loro sono pazzeschi quindi secondo me dipende dal concept in questo caso il concept per esempio di team lab non è creare una mostra come la intendiamo noi è creare una un'esperienza un immersione digitale in un in qualcosa che è arte non è l'arte che tutti immaginiamo è un nuovo modo di vivere l'arte un nuovo tipo di arte è digital art perché digital art e secondo me portata a questo livello sì quindi è un'evoluzione è un'evoluzione se vogliamo nell'arte contemporanea è una strada che l'arte digitale sta prendendo e chi produce questo tipo di è un artista quindi è come se fosse la mostra di quell'artista ma è sì in realtà è proprio quello che diventa nel caso di team lab è proprio un'opera di team lab nella quale tu ti vai a immergere nella quale tu vivi vivi questa esperienza ma invece per quanto riguarda il nostro modo di fare mostre diciamo dove la mostra comunque racconta una storia magari reale va a raccontare un contesto piuttosto che un artista piuttosto che un'opera soltanto può aver senso se non del pubblico è pronto in italia in europa a recepire un chiamiamolo uno spettacolo del genere secondo me sì ed è quello che adesso dar temperature comunque è nato un laboratorio in questo senso che si chiama museum e quello che noi stiamo facendo adesso è creare per esempio in dieci opere d'arte vogliamo ricreare come dire un percorso all'interno della storia dell'arte e lo vogliamo fare tutto digitale è sostanzialmente usare il digitale per raccontare l'arte in modo socialmente diverso quindi è qualcosa di diverso non è una mostra è un'esperienza è uno show ma soprattutto a un prodotto di edutainment e che ha appunto questo obiettivo raccontare un contenuto artistico in attraverso un'esperienza multisensoriale interattiva e multisensoriale quindi il digitale soltanto solamente uno strumento quindi un esempio pratico come potrebbe funzionare una mostra così quali potrebbero essere i momenti i vari momenti che trovi all'interno di un percorso del genere i vari momenti che tu trovi all'interno di un percorso del genere possono essere di diverso tipo possono coinvolgere il tatto quindi per esempio noi avevamo creato un contenuto sulla guernica di picasso dove c'era l'immagine di picasso famosissima di lui con le mani sulla finestra e tu visitatore puoi sovrapporre le tue mani alle sue e lui reagisce a questa tua sovrapposizione iniziando a premere a pressare le sue mani spingere battere le mani contro il vetro fin quando il vetro non viene rotto in mille pezzi e tu vivi visivamente e acusticamente questa sensazione del vetro che si frantuma in tantissimi pezzi un altro esempio può essere invece l'esempio che coinvolge non solo il tatto ma l'olfatto per esempio pochi sanno che esiste una corrente artistica dell'arte contemporanea basata tutta sull'olfatto esiste l'arte contemporanea fattiva artisti che creano installazioni basate sull'olfatto ed effettivamente oggigiorno è possibile inserire un elemento olfattivo all'interno di un'esperienza e noi lo stiamo pensando nei confronti di Monet riferito su una delle sue opere più importanti le ninfè immaginando questa sensazione di essere in un giardino in un giardino lussurioso pieno di fiori e come puoi comunicare questa sensazione senza inserire l'elemento olfattivo e quindi è un'esperienza multisensoriale l'altra l'altro elemento importante è il convolgimento emozionale quindi ritornando per esempio alla Guernica noi abbiamo immaginato appunto di far vivere al visitatore il bombardamento il momento del bombardamento della paese la Guernica è un'esperienza che è forte forte che non rimane in pressa non perché hai visto il quadro certo ma perché stai vivendo l'hai vissuto in qualche modo l'hai vissuto in qualche modo e quindi sì direi che si possono pensare a esperienze totalmente digitali noi adesso stiamo sperimentando queste esperienze ma non sono da intendere come le mostre che a cui siamo abituati sono una cosa diversa ma devono essere realizzate prevedendo il convolgimento di più sensi ecco ultimamente c'è stata famosa la Klimt Experience che ha fatto il giro insomma anche in Italia adesso comunque in Europa però è stata una mostra digitale tutta digitale però basata solo su materiale audiovisivo e musica ecco così forse è troppo poco mi sembra anche che ci sia un momento di stanca di questo genere di mostre i risultati mi sembra che stanno avendo anche a livello di pubblico non sono poi così eccezzi come ci sarebbe aspettati quindi probabilmente questa formula experience ormai ha lasciato un po il suo tempo sì secondo me oggigiorno la tecnologia ci può sopportare nel creare questo tipo di immersioni totali però bisogna pensarle creando interazioni creando ambienti che reagiscono al comportamento delle persone all'interno e che possono veramente lasciare un impatto emotivo e sensoriale significativo e che solo averle realizzate rappresentano un'opera d'arte quindi ci sono diciamo come gli artisti che iniziano rifacendo i capolavori dell'arte e questo è quello che stiamo facendo noi e poi ci sono artisti già maturi come TeamLab che creano le loro esperienze da zero senza riferimenti è un nuovo modo di vivere e creare anche arte digitale questo dal punto di vista anche legale non è sempre una cosa semplice perché soprattutto quando come dicevi tu si tenta di reinterpretare le opere di artisti soggetti a diritti particolari si incappa in notevoli problemi quindi non è un lavoro che valisce e di contro come dicevamo prima per per far sì che comunque siano delle cose realmente che valga la pena andare a vedere bisogna investire molto sia in tecnologia vera e propria quindi in hardware in attrezzatura molto costosa sia in ore e ore di sviluppo questo tipo di programmazione quanto può arrivare a costare un progetto del genere ma è difficile a dirsi perché appunto i costi dipendono da il numero di interazioni che tu vai a creare c'è una parte di hardware e una parte di software che sono significativi sono significativi quindi chi comunque vuole realizzare queste installazioni multimediali all'interno di una mostra tradizionale comunque deve tenere presente che ci vuole un budget dedicato che non si può pensare diciamo a mostra fatta e finita a dire adesso ci aggiungiamo il multimediale abbiamo 5.000 euro che ci avanzano mettiamoci qualcosa di multimediale no perché si sottovalutano tutti gli aspetti e come poi essendoci di mezzo un software un hardware c'è anche il discorso della manutenzione se una mostra dura due tre mesi o comunque c'è una questione di assistenza tecnica se succede qualcosa infatti a me spesso capita di andare a vedere non so anche presso musei che c'è magari un'installazione multimediale che non va che è la cosa più brutta del mondo è bruttissimo è bruttissimo però questo succede perché perché non si preventiva fin dall'inizio l'elemento manutenzione che è importante perché la minima cosa può comunque non far funzionare il compogliettore o quindi una lampadina si brui non lo so comunque è importante pensare sempre che parliamo di installazioni che hanno bisogno di manutenzione e che devono funzionare per magari non un giorno ma mesi mesi certo quindi grandi costi quindi bisognerebbe comunque prevedere grandi ritorni il pubblico non sempre sembra pronto a questo genere di cose ma forse perché tante volte si sbaglia il target probabilmente il target diciamo pubblico delle mostre tradizionali non è lo stesso o non è completamente lo stesso target che si avvicina a questo genere di esperienze qui forse c'è un po' la confusione sul posizionamento di questo genere di una mostra magari totalmente multimediale totalmente esperienziale rispetto a una mostra tradizionale per noi anzi è un modo per coinvolgere nell'arte un target giovane un target giovane quindi nuovo nuovo cioè non l'appassionato quello con i paraocchi che vuol vedere solo l'opera cioè quindi vedi si sposta un po' verso un pubblico diverso l'attenzione del pubblico sì però ecco non so io ipotizzo anche un mondo diciamo dove magari il super appassionato il super collezionista magari un giorno avrà la sua stanza creata ad hoc sui suoi desiderata tutta digitale che magari lo coinvolgerà in un'esperienza estetica artistica emozionale ad hoc quindi secondo me è ancora presto però penso che questo tipo di strumenti e modi di creare arte digitale potranno avere degli sviluppi particolari diciamo dall'idea che mi sono fatto io negli ultimi anni e con le mostre che abbiamo fatto negli ultimi anni mi sembra che i meno interessati a questo genere di cose sia la fascia dei quarantenni cioè la fascia dei quarantenni forse è quella più distratta in questo momento sono molto interessati i giovani non solo alla tecnologia i giovani mi sembra molto interessati all'andare a vedere mostre in generale e anche le persone anziane al di là di quello che si potrebbe pensare con le cose interattive ci ci giocano parecchio quindi quello che manca che forse in qualche modo va stimolato in un'altra maniera ma probabilmente il quarantenne oggi ha altri problemi da gestire la famiglia la carriera il lavoro le cose quindi magari non c'ha la mente libera come un giovane per approcciarsi a queste cose mentre invece l'anziano forse riviene fuori un po' il bambino che è in lui è l'elemento ludico ludico proprio nel senso anche educativo del termine gli piglia bene e lo utilizza in maniera anche abbastanza divertita se vogliamo si può essere sicuramente questa cosa che tu mi dici mi fa pensare in ogni caso un altro elemento importante di queste installazioni multimediali è il fatto che siano semplici cioè di certo un'installazione che prevede troppo tempo per essere capita troppo tempo per farla funzionare troppo tempo non è non funziona devono essere le cose comunque facili immediate e appunto che agiscono e interagiscono e agiscono rapidamente c'è il rischio di diventare un po' criptici in queste cose per eccesso anche a volte di masturbazione mentale se vuoi da parte di chi le fa a volte vai a vedere delle mosse dove ti trovi davanti all'installazione e non capisci, capita anche a noi del settore, non capisci assolutamente che cosa devi fare invece come dici tu l'immediatezza e anche la freschezza se vuoi di tutto questo ambiente è necessaria sì e poi un'altra cosa secondo me funzionano bene quelle installazioni che usano l'essere digitale anche per collegarlo al mondo dei social certo io ricordo un paio di mostre visitate la visitatrice dove c'era l'installazione multimediale che permetteva non so di realizzare un selfie in maniera diversa o creare un contenuto per il visitatore da usare sui social media e secondo me queste cose funzionano particolarmente bene questo funziona anche se non è multimediale noi per esempio in una mostra stimolavamo i visitatori a mettere un post, ma non un post su facebook ma il post it reale attaccato a una bacheca che poi era una parete della mostra e la parete si è riempita di post quindi il bisogno delle persone di interagire e comunicare e a prescindere che sia tecnologico o analogico che sia digitale o analogico la gente vuole interagire in qualche modo con la mostra e lo fa tipo per esempio nell'ultima mostra che abbiamo fatto The Wall c'era un corridoio dove c'erano dei pennarelli appesi e tu potevi lasciare il tuo disegno scritto sul muro eccetera eccetera dopo una settimana era pieno zeppo quindi ovvio che poi se c'è il selfie l'installazione che ti fa fare il selfie che tu lo puoi condividere su facebook funziona sempre, mi ricordo c'era quella mossa di Artemisia di Escher dove c'era la palla che tu ti riflettevi nella palla quello è stato un veicolo di selfie impressionante poi diventa comunicazione esatto, diventa usare queste installazioni anche per creare delle connessioni con il mondo social amplificare quindi la comunicazione della mostra è sempre interessante quello si deve essere anche un po' una furbizia da parte della produzione esatto e quindi questo ci fa tornare a quello che dicevamo prima che l'installazione non deve essere una cosa giusta apposta ma deve essere una cosa pensata insieme al tutto deve essere parte del tutto e non un elemento che viene dopo messo lì sì, mi fa venire in mente quello che tu stai dicendo adesso anche un'altra cosa che ci siamo detti che sicuramente oggigiorno non si può pensare di fare una mossa e di non comunicarla di non spendere comunque del budget per la parte di comunicazione che nonostante tutto continua a essere uno dei grossi errori di chi fa mostre soprattutto delle istituzioni in realtà perché chi fa mostre privatamente ormai sta cosa l'ha sdoganata ci avrà sbattuto i denti sopra più di una volta e ormai nel privato credo che si sia capito nel pubblico, nelle istituzioni pubbliche è ancora un po' non facile da far digerire perché sembrano sempre soldi un po' buttati via, no? non sono quelli della comunicazione però vabbè insomma questo è un discorso che ormai conosciamo bene tutti ma tu invece come sei arrivata a tutto questo? qual è la tua formazione? come sei arrivata a questo punto? allora io devo dire che la vita comunque tante volte ti, cioè non te ne rendi conto ma ti porta sulle strade che magari hai abbandonato e ti ci riporta comunque perché quelle strade magari sono le tue strade e per me è stato un po' così perché io ho una formazione comunque artistica quindi ho fatto un vicio artistico, mi ero scritta all'Accademia di Belle Arti per fare scenografia poi ho cambiato insomma ho un percorso comunque umanistico perché ho studiato lettere con indirizzo storico la vita poi mi ha fatto iniziare a lavorare con gli uffici comunicazione e marketing di grandi aziende quindi io ho una grandissima esperienza nell'ambito del marketing e della comunicazione digitale di brand quindi ho lavorato tanti anni in multinazionali, in uffici marketing e comunicazione specializzandomi in social media marketing e comunicazione digitale e poi a un certo punto mi sono trasferita dall'Italia alla Svizzera per motivi personali e ho lasciato il mio lavoro, ho preso un momento di pausa e devo dire che sono stata molto fortunata perché tante volte si sentono queste storie che dicono ripartendo da zero ma non tutti hanno la possibilità di ripartire da zero quindi io sono stata veramente fortunata di avere questa opportunità di prendermi una pausa riflettere e ho capito che io potevo usare tutto il mio background in digital marketing, comunicazione sul tema che mi appassionava di più, mi appassiona di più, cioè l'arte e allora ho iniziato a studiare e a capire che come attualmente l'online stava invadendo il mondo dell'arte e lo stava cambiando e mi sono resa conto che in realtà l'arte non è stata così drasticamente cambiata dal mondo digitale e da lì mi si è accesa la lampadina e ho detto no, voglio studiare questo tema voglio sperimentare su questo tema per creare qualcosa di nuovo e quindi adesso io lavoro con un team che da una parte è composta da storici dell'arte e dall'altra da persone con profili molto tecnici e insieme ragioniamo su come creare dei contenuti digitali che diano valore aggiunto all'arte quindi questa trasversalità di competenze è fondamentale per creare poi qualcosa come dicevamo prima che abbia un senso un po' più che sia qualcosa di più interessante non sia una mera un mero apporto tecnologico perché la formazione umanistica ovviamente crea un contenuto un contesto da un senso al poi al tecnico che lo va a sviluppare se fosse solo l'uno solo l'altro probabilmente non si andrebbe da nessuna parte quindi far lavorare insieme, il goal è proprio far lavorare insieme tutte queste diverse competenze che non è sempre facile ovviamente perché diverse competenze sono anche, diverse formazioni sono diversi caratteri, diversi approcci, diversi sistemi mentali a volte anche però quando si riesce a creare questo blend è allora lì che si ottengono i risultati più interessanti intanto ti ringraziamo per questa bellissima intervista e direi che a questo punto è ora di andarci a vedere la mostra di Fontana sì esatto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti